No, 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 non ci credo. Nel contratempo Paschino hai già partito di corsa. Perché era qua per terra? Perché mi ero girato in su io. Biga, com'è quel fungo lì? Adesso ci offri una canna? Qua è il togo, eh. Non si vede un bestia? Cio, che fungone. Cio, che c'è? Poi freschi bisogna che li tagliamo, eh. Questo qua sta bene grigliato, eh. Guardate la faccia del macio che ha trovato il fungo da mezzo filo. E da quel momento che sorriso. Guarda che sorriso. Ormai non ha più le orecchie. Beh, c'è la lampada anche di Magolio. L'ho appoggiata lì sul bracere. Un guantone da pugile, eh. Jack, mettitelo di fianco alla faccia. Perché è più grosso della testa. Vigliac e fungo. Vigliac. Cosa dici? Direi che sta bene grigliato quello lì, direi. E poi c'è già dentato di occhiare lo scoiattolo qua. C'è dato la bocca. C'è il buco dentro. Il morso dello scoiattolo. Dica, questo qua. Questo qua c'è detto, eh. Lo zampino. Vedi che c'è lo zampino lì? E fai lo zoom sullo zampino. Vedi la zampina al dente, il dentino. Dentino. Anche quello lì è il dentino. Il dentino. Zoom. Guardate quanti funghi i nostri ragazzi. Dica, troviamo il freghetto. Dica, metti il freghetto. Dovevi salire con noi. Guardate, a distanza di quasi un minuto il sorriso non è cambiato. Allè, com'è quel fungo? Ma non deve funzionare così, è quella cosa lì? Ecco. Ecco, basta. Perché è quella nuova. Io sbaglio sempre per mettere giù quella retina del cazzo. Ma quanto dura? Un secolo. Poi abbiamo duemila bombole. Un secolo. Ma se andiamo il fuoco, queste, le bracciere, poi se andiamo con le braccici. Se buttiamo su due ceppi, poi li facciamo andare tutta notte. Ne hai trovati anche te Marco, dei funghi? Tre. Vedave. Mi dà, beh. Sono stato contentissimo, Harry. Grandi, grandi. Jack è stato una macchina. Jack ne ha trovati un totale. E' grossi. Ci ha sempre spianato la via lui. Bravo Jack. Jack, mi hanno detto che sei stato te a trovare i funghi. Quei baschieri lo conosciamo, io che li trovo anche sotto, perché è sottoterra. Mentre il mazzo ha avuto quel colpo di genio, io che è dato numero 10, capito? È stato insorbito. Guardate il mazzo e il suo sorriso. Grande mazzo. Sì, oggi il mattatore è il mazzo.